Forza! Grazie al generoso contributo della regione Emilia Romagna. Io credo che sia un giorno importante non solo per il sindaco, non solo per la montagna di Crognaleto, per l'entroterra, ma per il sistema Italia. Oggi dimostriamo come si può riaprire una scuola, come si può fare per arginare il fenomeno dello spopolamento. È un sistema che va arginato con degli strumenti. Quello della scuola, dell'educazione, della possibilità di vivere un'attività scolastica nel paese è proprio la dimostrazione che oggi a Crognaleto si effettua. Grazie all'Emilia Romagna, grazie alla scuola, al dirigente scolastico, noi siamo riusciti a rimettere in piedi una scuola a tottea, la scuola media. 18 ragazzi che frequentano le tre classi in una scuola sicura, in una scuola all'avanguardia sotto l'aspetto tecnologico, in una scuola che è proprio la scuola che necessita nell'Appennino Centro Italia. Se si vuole, e l'appello lo faccio non tanto alla Regione, non tanto, lo faccio al Governo, lo faccio come abbiamo detto al Sottosegretario Vacca, all'On. Zennaro, ai nostri rappresentanti governativi, perché credo che da lì bisogna partire. Per avere una collettività, una società, una minima di attività, come devo dire, civile, c'è necessità della scuola, della sanità, della sicurezza. Questa mattina a tottea si dà questo esempio, una buona attività scolastica sta a significare la permanenza del territorio. Una scuola assolutamente all'avanguardia, ma anche il modo di insegnare cambia, visto che è considerato il numero di ragazzi. Sì, abbiamo pochi ragazzi, nel senso che sono 18 in tutto, quindi prima, seconda e terza media. Chiaramente abbiamo un rapporto quasi uno a uno, quindi possiamo dedicarci appieno alle loro esigenze. Nonostante siano pochi, i ragazzi comunque hanno una scuola molto tecnologica, abbiamo le aule LIM, i ragazzi hanno dei tablet che sono stati regalati dal comune di Crognaleto, quindi cerchiamo insomma di essere al passo con i tempi. Oggi è un giorno importante per i ragazzi, ma anche per i genitori che finalmente hanno una scuola ancora più vicina. Esatto, adesso sono più tranquilli i ragazzi, stanno in un edificio nuovo, stanno tranquilli, siamo tutti contenti. Per la sicurezza dei bambini, hanno la palestra, hanno più spazio al conforto della scuola di Nerito, che stavano più stretti. Noi stiamo tranquilli, sapendo che loro stanno tranquilli e sicuri. Noi stanno tranquilli, sapendo che loro stanno tranquilli.